Senti, quindi dicevi che il fascista andava a strappare i manifestini Eh, io non vedevamo, ma io non ho mai visto nessuno strapparli, avrei litigato No, no, finito la domanda Quindi, come dire, era una situazione un po' da paese Cioè, oppure c'era paura che la repressione arrivasse, che qualcuno venisse arrestato, ucciso No, almeno io non... Non era Io ho provato ad essere stata fermata, perché pensavano, secondo me, a mio fratello, dei fascisti Dopo invece, quando hanno arrestato mio fratello, allora hanno dubitato anche di me, però non hanno potuto dirmi niente Mi hanno portato alle scuole, c'erano le scuole occupate dai tedeschi Mi hanno interrogato su un bigliettino dove c'era scritto quattro pistole, cinque mitragliatori, eccetera Che era la calligrafia di mio fratello impossibile dire che non era sua E io continuavo a dire di no, mi ricordavo che mi avevano detto se dovessero prenderti Tu devi sempre dire di no a tutto, anche di fronte all'evidenza e io ubbidivo Cosa è successo a tuo fratello? Cosa è successo? Come si chiamava di battaglia, qual'era? Oddio, sì che lo so, non mi viene in mente Cioè lo dici dopo? No, non mi verrà in mente Perché io non lo chiamavo, io lo chiamavo Gioffre Perché mio padre ha dato ai figli dei nomi che non ve li immaginate Dice la cazurina? Mentana, la battaglia di Mentana Gioffre, questo partigiano che era con me Oberdan Zola, una sorella Che noi dicevamo gorgonzola Insomma quei nomi lì c'ha dato Era un po' di piacere il risorgimento Era matto, era matto Matto, sì Cosa stavo dicendo? Stavamo parlando, ti ho interrotto io, mi pazienza Di quando è stato arrestato tuo fratello? Mio fratello aveva la faccia del tedesco Era biondo e proprio il viso da tedesco Ragion per cui si era procurato una divisa di tedeschi Tedesca e hanno fatto parecchi e parecchi colpi con quello Perché lui si presentava, quelli la boccavano e poi saltavano fuori gli altri Eccetera eccetera Però in Genui Era in un cassetto Della casa Allora quando si vede che qualcuno ha fatto la spia E hanno arrestato Tre ne hanno arrestati Mio fratello Un giovane di La Spezia Molto giovane anche lui E un altro ancora E poi uno, quell'altro ancora l'han rilasciato I due, mio fratello e questo di La Spezia Li hanno portati a Siena Gli hanno fatto il processo veloce come si dice, non lo so No, lo so ma non me lo ricordo E li hanno condannati a morte E li hanno portati nel carcere di Siena Devo andare avanti a questa storia? Se vuoi Dopodiché Io la mattina sono corsa subito ad avvisare Per dire quello che era successo Non sapevo ancora che l'avevano condannato a morte Perché l'abbiamo saputo dopo E i partigiani erano già in procinto Di far l'assalto al carcere di Siena Perché c'erano dentro tanti antifascisti L'hanno fatto E mio fratello è scappato insieme a tutti gli altri E ha avuto un'avventura incredibile Da stare nell'acqua ore, ore, ore Perché c'erano i tedeschi Li cercavano, rastrellavano dappertutto Comunque si è salvato Che bella storia Ma guarda, sentirla raccontare da lui Era proprio una cosa Allora cosa... Ma guarda, a me sembrerebbe Perché una cosa che potresti raccontarci È come poi è avvenuta la liberazione Il 25 aprile Ah, è avvenuto in un modo anonimo Perché... No, non ridere Non era il 25 aprile Era l'aprile, il giugno del 44 Quando sono passati dalla Toscana Ah, che si è spostato il fronte Eh, sono stati fermi un bel po' Dopo i... Ma infatti eravate vicino alla linea del fronte Comunque non era una situazione un po'... Quando hanno arrestato mio fratello e me Dopo poco è passato il fronte Beh, il fronte è passato senza... Senza proprio... Senza che ce ne accorgessimo Perché le truppe non passavano di lì Infatti... Ah, già, noi facevamo anche un altro lavoro Io sapevo... Avevo fatto sei mesi di... Studio di lingua tedesca Alle magistrali E riuscivo a masticare qualcosa Sapevo i nomi Mettevo assieme qualcosa E riuscivamo a parlare con questi tedeschi Che erano accampati proprio di fronte Allo stabilimento dove io lavoravo E così abbiamo saputo delle cose Siamo riusciti a sapere certe cose E abbiamo saputo che partivano Dove andate? E... Ero sul vago Però abbiamo capito che stavano facendo fagotto E che il fronte era vicino E quindi dopo... Infatti loro sono partiti Il fronte è passato Il giorno dopo non ci sono più tedeschi E poi la voce passa E allora festa Festa proprio Ecco ma qui c'era questa dimensione collettiva Cioè eravate un po' tutti... Tutto il paese era... Sì 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 Per esempio ce l'avevate la radio per sentire Radio Londra? No Nessuno? Noi no Non so Comunque era un paese proprio di antifascisti Uniti Un bel paese Io poi subito mi ha messo a fare la segretaria impiegata Della sezione E avevamo un locale Lì nella piazza E hanno cominciato le iscrizioni Arrivavano dei nomi Uno che aveva chiamato i suoi figli Primo, secondo, terzo, fino a dieci Tutti comunisti erano Uc них non insomma Yeti Un conto Sì C'è